Mi presento sono Peppo, Peppo3393 e questa è la serie del Road to Diamond Mi presento sono Peppo, Peppo3393 e questa è la serie del Road to Diamond E giù a tutti ragazzi, come avrete notato sicuramente dal pezzo iniziale Per chi non lo sapesse, qualche giorno fa sono stato al video game show di Milano E in quell'evento ho avuto l'occasione di conoscere parecchi youtuber che erano stati appunto invitati per quell'evento lì Ora, il discorso qual è? Molti tra questi non li conoscevo, quindi li ho sentiti per la prima volta Nonostante ci siano anche canali grossi che superano addirittura i 200.000 iscritti, 300.000 iscritti Molti non li avevo comunque sentiti nominare, comunque ci siamo presentati E abbiamo fatto tutti quanti un salto nei vari canali giusto per vedere di cosa trattassero, no? Ed effettivamente sia Lama che Velox mi avevano detto che la sigla della Road gli era piaciuta Ma credetemi, non mi aspettavo così tanto Mi ha contattato un ragazzo su Facebook dicendomi Peppo lo sai che hanno cantato la tua sigla in una live Lama e Velox? Vado a vedere la live E ho preso giusto qualche spezzone che vi farò vedere Lo faccio semplicemente perché comunque fa piacere una cosa del genere E devo dire sono abbastanza contento perché personalmente parlando non me l'aspettavo da altri youtuber Che personalmente non conosco Comunque non ho mai avuto un dialogo con loro, non li ho addirittura mai sentiti nominare prima Però fa piacere che nonostante ciò comunque non ci sia questo astio tra virgolette Che comunque come tutti voi sapete su YouTube tra virgolette c'è E' un po' come quella sorta diciamo c'è ma nessuno ne parla E devo dire che mi ha fatto piacere perché non me l'aspettavo Semmai vedranno questo video sia Lama che Velox Spero che comunque non gli dia fastidio chi abbia preso parti del live di Lama Le sto caricando sul mio canale Ma appunto era per farvi vedere che comunque fa piacere Vedere come la sigla di merda che ho fatto Cioè possa rimanerti nelle orecchie Perché credetemi è capitato pure a me ancora tuttora Cioè il motivetto in testa Mi capita di andare in giro e cantare la sigla della ROAD E credetemi non mi aspettavo avesse questo effetto così Dunque detto questo semplicemente volevo dirvi questo Mi ha davvero fatto piacere vedere questa cosa E nulla vi lascio gli ispezioni live Facendo questo video per pura reazione genuina Perché davvero non me l'aspettavo Perché come vi dicevo prima c'è tra i YouTuber Non tutti eh Ma comunque tra magari tra le fazioni C'è questa cosa che tutti lo sanno ma nessuno ne parla E per chi mi conosce davvero Diciamo questa cosa su di me la sa Nel mio canale ho parlato tantissimo Dei YouTuber che seguo Per esempio Sabakuno Maiku Luke Vabbè Luke nel mio canale Diciamo che chi non conosce Luke nel mio canale Cazzarola Croix89 Tutti sanno che gli YouTuber che seguo nel mio canale Li nomino tranquillamente Cosa che appunto su YouTube C'è sembra una cosa incredibile Oh mio Dio Segui uno YouTuber che seguo YouTuber Io vi lascio agli ispezioni di live Che mi hanno dedicato Sia Lama che Velox Spero vi facciano fare qualche risata A me personalmente ha fatto sorridere Vedere due YouTuber che cazzeggiavano con la mia sigla E nulla Spero non si offendano né Lama né Velox E' giusto così ci tenevo a fare questo mini video per questo Sei pronto? E uno E due E quattro Mi presento Sono Peppo Peppo3 E 93 E questa è la serie Del Roll to Diamond Camera ho portato il villager che manca Perché sento Peppo inizia Mi presento Sono Peppo Peppo3 No Peppo3 E questa è la serie Del Roll to Diamond Raga quanto era più cazzo di questo tipo? Quanto penso Pompare le mie No Peppo Ciao Peppo Ma ci sta seguendo? Bu Che li vedi? L'azzo lo chiamiamo qui e lo facciamo cantare Metti Peppo madonna No Peppo3 No Peppo3 No Peppo3 Me fa 100 Mi presento Sono Peppo3 Me fa 100 No Peppo3 Non mi presento solo Peppo Novanta E questa è la serie Nello scorso episodio Si esatto quando qualcuno dona Metti la sigla di Peppo Lo farò ragazzi Dai raga ogni volta che donate cantiamo per 10 volte di fila Mi presento solo più il vostro nome E la sigla di Peppo Giustate C'è Just Drew che ha donato un minuto fa Mi presento solo Just Drew Inoltre a te Io ci credo E questa è la serie Verrò tu Just Drew Non mi si leva dalla testa E questo è il punto Ragazzi ogni donazione cantiamo la sigla di Peppo Hanno donato Guarda che bastardino Ryan Delea Donato 4 euro Mi presento solo Ryan Delea Ryan Delea Ryan Delea E questa è la serie Verrò tu Ryan Delea Io l'ho contatto Peppo e mi faccio fare la intro del canale con lui che canta Te lo dico Oh minchia 10.000 mi piace e gliela faccio davvero Ho deciso è scritta questa cosa Mi presento sono la ama E questo Il fatto non è ancora Mi presento sono Just Drew Just Drew Quella è la cosa più difficile Just Drew 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 E questa è la serie Verrò tu Just Drew 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 Mi presento sono Ryan Delea Ryan Delea E questa è la serie Verrò io and Delea E questa è la serie E questa è la serie